Agosto 1944, in una Fiesole occupata dai tedeschi, i carabinieri collaborano con la resistenza. Il 12 agosto, tre giovani militari offrono volontariamente la loro vita in cambio di quella di dieci civili e vengono fucilati dai nazisti. Avevano vent'anni. Nessuno di loro era toscano, ma sono ricordati per questo episodio come i martiri di Fiesole. Il sacrificio di Alberto Larocca, Fulvio Sbarretti e Vittorio Marandola, medaglia d'oro al valor militare, è stato ricordato con una serie di eventi organizzati dal Comune e dall'Arma dei Carabinieri, culminati con la cerimonia solenne alla presenza del Comandante Generale dell'Arma, Teo Luzzi, e del Ministro della Difesa. Viviamo in un'epoca di egoismo, ha sottolineato Crosetto, questi tre ragazzi che non avevano legami diretti con le persone per cui diedero la vita, tornarono indietro, spinti da un valore altruistico più alto. Non si studia a scuola l'eroismo, lo si apprende studiando l'esempio che hanno dato altre persone, per questo siamo qua a ricordarlo. Ma perché nel nostro paese la memoria degli eventi legati alla liberazione dal nazifascismo è ancora oggi divisiva? Non lo so, me lo chiedo tutte le volte. Io penso che questo paese e ogni nazione abbia necessità di momenti di riunificazione. Penso che per troppi secoli la mentalità dei Guelfi e Ghibellini, per citarla, in un luogo dove è nata debba cessare. Noi abbiamo momenti necessità e ne avremo sempre di più in futuro, in un mondo che diventa sempre più complesso e sempre più difficile, di trovare qualcosa su cui unirci perché avremo bisogno di essere uniti, per cui io auspico che cambi questo atteggiamento. Per me non è mai esistito.